La sanificazione secondo l'OMS e l'ISS. Progetto Acqua Metro Zero. Non produrre per non dover riciclare. Ciao, il video di oggi è un breve riassunto di alcune informative che ci sono pervenute tramite mail da organi competenti e fornitori riguardo la sanificazione di acqua, superfici, aria e corpo. Inizio col dire che io sono uno pragmatico, non come pensa qualcuno complottista, e comunque non mi interessa il giudizio degli altri nei miei confronti. In quanto pragmatico penso positivo preparandomi al peggio, che per uno che pensa positivo il peggio non si può avverare in quanto appunto ogni evento viene interpretato in maniera positiva. Bisogna essere tutti un poco come Noè, che ha costruito un'arca in tempo di esicità, mentre tutti lo prendevano in giro. Ma vista con gli occhi di uno che pensa positivo poteva andare così, in caso di diluvio ci si mette in salvo, se invece piove e poi smette, ti sei costruito una barca per andare al mare. È abbastanza chiaro che il Covid-19, se non ci sono altre malattie in corso, ha un tasso di mortalità basso. Si parla del 2%, ma voglio ricordare che in Italia siamo poco più di 60 milioni, e il 2% di 60 milioni fa comunque 1.200.000 persone. Ma anche se fossero solo lo 0,2%, perciò 120.000 persone, non si sta parlando di noccioline. Il problema sussiste quando la persona infettata dal Covid-19 ha una o più malattie in corso, ancora più preoccupanti nel caso di malattie legate ai polmoni o al sistema respiratorio. Quindi la preoccupazione è questa. In Italia, per esempio, abbiamo uno dei tassi più alti di mortalità legati al batterio della legionella. Se non ricordo male, circa 1.500 persone sono morte solo in Lombardia nel 2018 o 2019. E questi sono solo i casi accertati, perché nella maggior parte dei casi viene scritto che la persona è morta per una polmonite e non gli viene diagnosticata la legionella, ma è oppurato che i morti siano molti di più. Ecco, cosa succede se una persona si ammala di legionella e contrae anche il virus del Covid-19? Succede che le possibilità di salvarsi precipitano velocemente verso lo 0. Quindi, come tutti gli anni, in questo periodo è arrivata l'informativa che ricorda di attuare le linee guida sulla legionella. Quest'anno, ancora più importante, visto quello che ho appena spiegato. Quindi, se avete accumuli di acqua calda, come bollitori, puffer, pannelli solari termici, vasche di raccolta, torri di raffreddamento, fate intervenire subito un tecnico per effettuare una sanificazione efficace e fate applicare un sistema di mantenimento della sanificazione che vi garantisca una totale sicurezza. Il vostro idraulico di fiducia, se è un professionista, saprà sicuramente indicarvi il prodotto migliore. Noi, da anni, lavoriamo con un prodotto chimico altamente efficace e con un prezzo alla portata di tutti, ovvero il biossido di cloro. L'impianto Nero No Legionella, che vedete in foto, è il come si presenta. C'è un contalitranci impulsi che dice ad una pompa adotatrice quante biossido di cloro inserire nell'acqua in base alla portata, per avere sempre la certezza della sanificazione. Il prodotto non agisce solo sulla legionella, ma su un'infinità di batteri, funghi, alghe e virus. Alla prima installazione verrà eseguito un lavaggio denominato clorazione shock e poi il prodotto viene iniettato in maniera costante. È un prodotto certificato e rientra nelle attuali indicazioni di OMS o ISS sul Covid-19. Infatti viene anche usato nebulizzato o spruzzato per la sanificazione di strade e spazi aperti. L'impianto può essere installato anche dal vostro idraulico di fiducia e se sei interessato, chiamaci. Anche i climatizzatori sono un ricettacolo di batteri e virus e la legionella è presente anche in questi apparecchi. In commercio ci sono delle bombolette spray per effettuare la sanificazione, ma oltre ad essere relativamente costose, alcune contengono ancora gas non salutari per la nostra atmosfera. Noi da qualche anno promuoviamo una serie di impianti che grazie alla nebulizzazione di acqua distillata o osmotica e clorina, un prodotto a base di cloramina T, che è un presidio medico-chirurgico registrato col numero 16.571, possiamo sanificare non solo i climatizzatori di casa o quelli dell'auto, ma anche degli ambienti, gli armadi e i vestiti, le scarpe, e tutte le superfici lavabili e non, come i pavimenti, le sedi, i divani, le poltrone e i materassi, creando una vera e propria copertura che può durare fino a 15 giorni. Io personalmente consiglio di sanificare la casa una volta ogni 7 o 10 giorni, una camera d'albergo ogni volta che cambia il cliente, un taxi anche una volta ogni 2 o 3 giorni, dipende da quante persone salgono in un giorno su quel taxi, un'ambulanza sarebbe ottimale ogni volta che si trasporta un paziente pericoloso e almeno una volta ogni 2 o 3 giorni. Questi sono solo esempi, i casi specifici vanno valutati volta per volta in base all'uso, alle metrature e alle tempistiche di sanificazione richieste. L'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'ISS, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità Italiano, in diversi comunicati hanno espresso il loro parere sull'efficacia di alcune procedure di disinfezione delle superfici e delle mani, nonché sui principi attivi biocidi e sulle formulazioni che possono dare le maggiori garanzie in fatto di lotta al coronavirus. Anche se le conoscenze sul comportamento del Covid-19 sono ancora scarse, la sua somiglianza con altri virus che hanno causato orribili pandemie, come la SARS o SARS-CoV-1, può ragionevolmente farci pensare che quelle molecole biocide e disinfettanti che sono state in grado di aiutarci nella lotta contro questi virus possano anche avere un effetto sul Covid-19 o SARS-CoV-2. Quindi, nella foto, si può vedere quali sono gli elementi che possono attualmente garantire una sanificazione efficace. Il principio attivo, come il cloroattivo, in concentrazione da 0,1% a 0,5%, con un tempo di contatto che va da 1 a 5 minuti, è funzionale per le superfici, ma non per le mani o per il corpo. L'alcol isopropilico, con una concentrazione che va da 0,5% all'1%, con un tempo di contatto di 5 minuti, è funzionale per le superfici, ma non per il corpo. L'alcol etilico, con una concentrazione che arriva fino all'80% massimo di volume, con un tempo di contatto di 1 minuto, è funzionale sia per le superfici che per le mani. L'alcol isopropilico, con la concentrazione massima del 75%, con un tempo di contatto di 1 minuto, è funzionale sia per le superfici che per le mani. In questi giorni, ho avuto modo di parlare con alcune persone delle forze dell'ordine, che mi chiedevano consigli su come sanificare, per esempio, la divisa, perché, stando sempre all'esterno, possono entrare in contatto con questo virus. E visto che non si può lavare una divisa tutti i giorni e non hanno in dotazione mille divise, la cosa più semplice ed efficace per sanificare un vestito o una divisa o un paio di scarpe è l'alcol etilico diluito all'80%. Quindi, basta prendere uno spruzzino da un litro, mettere al suo interno 850 ml di alcol etilico al 96% e poi aggiungere acqua, meglio se distillata, oppure, perché ce l'ha, quella osmotica. In caso di emergenza avviene anche quella del rubinetto, ma un'acqua con calcare, per esempio, può lasciare delle macchie su un vestito o su una divisa. Quindi, se non volete rovinare l'oggetto da sanificare, non usatela. Una volta preparata la miscela, sarà sufficiente spruzzarla sull'oggetto, attendere un minuto, e se possibile metterla al sole per far evaporare velocemente l'acqua. L'alcol evapora molto più velocemente e prima dell'acqua, quindi mettere quell'oggetto al sole solo dopo averlo spruzzato, se no non si ha il tempo di contatto. Per il momento, il Covid-19 non viene veicolato attraverso l'acqua, anche se l'hanno già trovato presente in alcuni bacini di acqua e reflue, però ancora nulla di certo, perciò niente panico. Vi ricordo che, anche in questo video, è stato fatto per promuovere il progetto Acquametro Zero, che nasce con l'intento di eliminare una cosa che non posso più nominare, che però sappiamo essere presente sulla tavola di moltissimi italiani. Per aderire al progetto Acquametro Zero non è obbligatorio comprare nulla, si può semplicemente iniziare a bere l'acqua della propria municipalità, ma se non ti piace il gusto o non ti senti sicuro nel berla, Acquametro Zero mette a disposizione tre impianti ad osmosi inversa in grado di erogare acqua a temperatura ambiente, sia microfiltrata, sia osmotica, sia alcalina, e richiesta eroga acqua per uso tecnico, tipo l'acqua per il ferro d'astiro. Se vuoi l'acqua fredda, basta mettere una bottiglia della sua propria acqua in frigo e se vuoi potrai gasarla con il gasatore manuale di cui ho corredato. Inoltre, grazie alle sciroppe che si possono trovare in commercio, potrai prepararti anche delle bevande colorate e zuccherate. Puoi mandarmi ora un messaggio WhatsApp al 348-780-0055 o una mail a davidepriore.eu oppure semplicemente chiamami, ti invierò un PDF informativo e la scheda dei prodotti complessiva dei prezzi. Ti ricordo, anche in questo video, che stiamo cercando collaboratori da inserire su tutto il territorio italiano. Se sei interessato o conosci qualcuno che sta cercando lavoro, dagli il nostro contatto. Se questo video ti è piaciuto e pensi che possa essere utile, semplicemente contividilo con tutti i mezzi che conosci. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Un saluto da Lino La Torre, Davide Priore e da tutto lo staff di Miniera. Ciao e al prossimo video messaggio.